Benvenuto o benvenuta a questo momento di istruzione per fare nostro un metodo di preghiera e un metodo di approfondimento della nostra vita spirituale. Se è il primo video che vedi di questa serie ti consiglio di partire dall'inizio perché sono conseguenziali, stiamo proprio provando pian piano a entrare in un metodo di preghiera in questo cammino che ci accompagnerà per tutta la quaresima. Se invece sei abbastanza puntuale dovresti aver iniziato da una decina di giorni questo percorso e direi che è arrivato il momento per provare a dare uno sguardo un pochino più ampio a tutta la nostra vita spirituale. Non lo so se è la prima volta che cerchi di fare un percorso un po' più intenso di approfondimento della vita spirituale, di preghiera ed è probabile che più avanziamo in questo cammino di preghiera più ci accorgiamo di dimensioni di cui non c'eravamo mai accorti. Io sono sacerdote da 15 anni, permettimi questa confidenza. Ti rendi conto soprattutto nel ministero della confessione, qualche volta anche della direzione spirituale che più progredisci nella vita spirituale più ti rendi conto di dimensioni che scopri. Ci sono persone che sono un po' principianti, ma non ci sto facendo una colpa, ma sono un po' all'inizio della vita spirituale oppure non hanno mai iniziato un cammino un po' serio di esercizi spirituali, di discernimento e ad esempio per loro la vita spirituale corrisponde a dire delle preghiere. Non sono pochissime le persone che quando vengono a confessarsi dicono ho detto le mie preghiere o non ho detto le mie preghiere. Vedi, per questo genere di persone, ripeto, non le sto giudicando, sto solo mostrando le differenze, pregare uguale dire delle preghiere. Mi auguro che dopo questi già dieci giorni, se li hai vissuti, un po' di vita spirituale più intensa, dove stai provando un metodo di preghiera che ho provato a indicarti nella prima di queste istruzioni, beh, pian piano dici, beh, ma allora pregare non è dire delle preghiere e allora acquisisci una finezza di più e ti rendi conto, ad esempio, che un difetto da correggere potrebbe essere non riesco a stare nel tempo di preghiera. Poi magari più progredisci, più potresti dire mi rendo conto che nella mia preghiera cerco spesso semplicemente una consolazione esteriore, dire delle preghiere, stare nella preghiera. rendersi conto di un atteggiamento di fondo che è alla ricerca solo di una consolazione e non della volontà di Dio, vedi come si va a fondo. Prima uno pensa che pregare è dire delle preghiere, poi invece uno si rende conto che pregare è qualcos'altro e nel terzo livello uno si rende conto che pregare è mettere la propria libertà a disposizione della volontà di Dio. Ecco questo ti auguro dunque in questo cammino, che esercizio dopo esercizio, giorno dopo giorno, tu riesca ad acquisire sempre una maggiore sensibilità spirituale. Ma se ci pensi, questo non è dissimile a tutte le dimensioni della nostra vita. Pensiamo, facciamo un esempio molto molto banale, che può essere la vita sportiva. Uno all'inizio di un'attività sportiva, il discrimine è sto facendo un po' di allenamento, non lo sto facendo. Poi quando uno inizia a prendere il ritmo, può iniziare a dire, beh, ma faccio gli esercizi prescritti oppure me li riduco. Poi più uno va avanti può dire, ma li faccio bene gli esercizi. Vedi che sono tre livelli, fare e non fare, almeno fare con un certo ritmo e poi fare con qualità. Quasi tutto nella nostra vita, più noi ci stiamo dentro, più lo approfondiamo. E ti auguro davvero che in questa quaresima, se stai iniziando questo percorso, tu stai arrivando sempre più in profondità, a scoprire che la vita spirituale non è solo fare delle pratiche o dire delle preghiere, ma andare sempre più in profondità per scoprire che il bello della nostra vita è metterla proprio a disposizione della volontà di Dio. A questo proposito ci lasciamo aiutare ancora dalla figura di Sant'Ignazio di Loyola. Nelle sue regole per discernere gli spiriti, da due regole che secondo me nel suo libro gli esercizi spirituali, sono molto molto interessanti. Nella prima regola per riconoscere gli spiriti, dice che a coloro che passano da un peccato mortale all'altro, il demonio comunemente è solito proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare diletti e piaceri sensuali, per meglio mantenerli e farli crescere nei loro vizi e peccati. Interessante, no, questa cosa? Quando sei all'inizio della vita spirituale oppure non hai nemmeno iniziato la vita spirituale, sei tentato in modo molto molto grossolano, quindi sei tentato nell'avere, nel piacere, nel potere, nella vendetta. È normale che attraversiamo questa fase nella nostra vita e a volte noi abbiamo un po' una morale borghese, no, per cui privati vizi, pubbliche virtù, chi mai direbbe nella sua vita io sono un vendicativo, io sono un sensuale, io ho sete di potere. Però se sei all'inizio della vita spirituale, tieni presente che queste dinamiche ci sono nella nostra esistenza e vanno smascherate. Mi capita qualche volta, mi è capitato in passato di ascoltare confessioni piuttosto che di accompagnare qualcuno che è arrivato persino alla dinamica della doppia vita, no, nella propria esistenza, cioè sono un uomo apparentemente rispettabile e poi sotto una serie di dinamiche legate alle dipendenze, legate alla sessualità, legate alla truffa, legate all'inganno che sono nascoste e poi quando se ne accorge è già troppo tardi perché ti hanno già rovinato la vita. Quindi se stai iniziando questo cammino di vita spirituale bisogna rendersi conto di questa dinamica. Nella nostra vita c'è la tendenza a passare di male in peggio. Il male che può essere il male legato all'eccesso del piacere, del potere, dell'avere è veramente una voragine, è come mettere una pallina su un piano inclinato, pian piano inizia lentamente poi prende sempre sempre più forza. Il male fa così nella nostra vita. Quindi se sei all'inizio della vita spirituale, adesso per una decina di giorni abbiamo visto un po' un metodo di preghiera, le dinamiche di fondo, ma questa preghiera deve incidere nella tua vita. Prova a esaminarti con un pochino di serietà. Sei in una fase in cui stavi passando di male in peggio, cioè ci sono delle dinamiche che aumentano sempre di più. Guarda che se non poni un freno al potere, all'avere, al piacere, ne vuoi sempre di più, ne vuoi sempre di più e poi arrivi anche a farti del male e poi arrivi anche a fare del male agli altri. Se sei all'inizio non te ne accorgi, però ci sono persone che si fanno del male sotto questo livello e ci tenta così il maligno. Se sei proprio all'inizio, se sei un po' all'ABC della vita spirituale, se sei un po' preso da queste dinamiche, farci passare di male in peggio. Ecco, se ti rendi conto poni subito ai rimedi. Ne parleremo più avanti anche dell'accompagnamento spirituale nella nostra vita, però bisogna proprio un po' fermare la biglia, no? Sennò puoi fare tutti gli esercizi di preghiera che vuoi, ma non ne uscirai, non riesci, no? Se preghi, ma nella vita la dinamica è quella del passare di male in peggio, non ne vieni fuori, no? Quindi è sapiente questa idea di Sant'Ignazio. Niente paura, non è un autocondanna, non è un farci del male, ma prova a esaminare se nella tua vita questa dinamica del di male in peggio potrebbe essere presente. Cioè, se il modo con cui il maligno ti tenta è proprio quello della tentazione base, soprattutto, ripeto, sono legate al piacere, legate al successo, al potere, legate all'avere. Ecco, queste, no? Sono un po' le tentazioni di base del maligno. Ecco, se ci sono queste dinamiche, assieme agli esercizi spirituali, è importante pian piano porne rimedio, perché ti annebbiano la mente, il cuore, e non sei libero per porre la tua vita a servizio della maestà del Signore. Poi c'è l'altra dinamica invece che sottolinea Sant'Ignazio che è il contrario. In coloro che si impegnano a purificarsi, sono la seconda regola per riconoscere gli spiriti, in coloro che si impegnano a purificarsi dai loro peccati e che procedono, bella questa espressione, di bene in meglio, nel servizio di Dio nostro Signore avviene il contrario della prima regola. In questo caso, infatti, è proprio dello spirito cattivo rimordere, rattristare, porre difficoltà e turbare col false ragioni per impedire di andare avanti. Invece è proprio dello spirito buono dare coraggio ed energie, consolazioni e lacrime, ispirazioni e serenità, diminuendo e rimuovendo ogni difficoltà per andare avanti nella via del bene. Interessante questa seconda regola. Più progredirai nella vita spirituale, più le tentazioni si fanno sottili. All'inizio potrebbero esserci proprio le tentazioni al successo, al successo anche a discapito di altri, parlo male degli altri per averne un tornaconto, ho dei vizi di fondo nella mia vita. Quando pian piano correggerai queste dinamiche, il tentatore non smette di fare il suo mestiere e il nemico dell'umana natura, come lo definisce Ignazio, non smette di insinuarsi nella nostra vita spirituale. Come? Non lo farà più in modo grossolano, ma in modo sempre più sottile. Ad esempio, lo scoraggiamento. Se hai iniziato questi esercizi da una decina di giorni, potrebbe iniziare ad arrivare la tentazione eeeh, ma non serve a niente, eeeh, ma figurati cosa vuoi che cambi, ma va, ma io non cambierò mai nella mia vita. Un po' più sottile questa tentazione perché non sei preso sulla sensualità, sugli istinti, sei preso già sulle dinamiche di fondo della tua vita. Ad esempio, questa dinamica è quella dello scoraggiamento. oppure al contrario l'orgoglio spirituale. Ma va, che bravo sono io e pensa a te che la catechista è in parrocchia che fa catechismo con me e che il dogli dà sempre ragione non li fa neanche gli esercizi spirituali, ma io meriterei almeno un premio con tutti gli esercizi che sto facendo. Vedi, l'orgoglio spirituale, il tentatore inizia a prenderti non tanto sulla sensualità, sul potere, sul piacere, ma sul sentirti in orgoglio perché stai pregando. Anche questo, no, è una dinamica un pochino più sottile e anche così e più progredirai nella vita spirituale più le tentazioni si faranno sottili, no, sarai tentato sull'orgoglio spirituale, sullo scoraggiamento oppure vengono i dubbi di fede. E' chiaro che se una fede è un pochino all'inizio, a me ne c'è Dio, basta, non lo pongo neanche in crisi, ma se tu pian piano inizi a pregare, vengono fuori le domande e le domande a volte possono diventare anche dubbio, possono diventare tormento. Cioè, se Dio nella tua vita sì, c'è, voglio dire, vado a messa la domenica, ci sono sempre andato, ci sono anche i miei amici, sono uno che vive in parrocchia, non è che l'abbia mai messa in discussione questa dinamica. Può essere che in questi esercizi il tentatore venga a insinuarsi con qualche dubbio un po' profondo, no? E allora dici, mamma mia, ma sarà tutto vero? Ma non mi starò mica ingannando? E vedi un'altra tentazione, ti tenta nell'intelletto lo spirito maligno e ti fa mettere tutto in crisi, tutto in dubbio. Ne parleremo più avanti dei dubbi, ci sarà un momento che dedicheremo ai dubbi nelle nostre istruzioni. Però è il dubbio persistente che non ti molla, qualche pensiero ossessivo, no? Che possono entrare in te. Eh, ma il Signore quella volta l'hanno mi ascoltato, beh, allora Dio non c'è e sto pensiero ti torna, ti ritorna, rischia un po' di tormentarti. Ecco, saranno queste le tentazioni che pian piano potresti sentire nel tuo percorso. Saperle riconoscere ce l'ha dato in modo Sant'Ignazio. È vero che il tentatore continua a fare il suo mestiere, ma nel frattempo diventerò anche sempre più esperto dello spirito del Signore che, espressione che avevo invitato a sottolineare, ci fa passare di bene in meglio. Ecco, lo spirito del Signore non sarà mai un tormento, non ti inviterà mai a fare del male e pian piano vedrai che ti stai conformando a Gesù Cristo e questa sarà la tua gioia. Quindi ecco, bisognerà diventare sempre più fini perché anche il tentatore diventerà più fine nell'andare a insinuare nella tua vita ciò che ti impedisce di progredire ma diventerai sempre anche più sensibile allo spirito del Signore e pian piano ti accorgerai che Lui ti sta conformando a Gesù e questa in qualche modo deve essere la gioia che accompagnerà questi esercizi. Grazie per aver seguito anche questo momento di istruzione e spero ti sia stato utile per imparare a discernere quali sono le tentazioni e le consolazioni di questo cammino e avanti, non mollare, cerca di tenere fede al tuo impegno di essere costante negli esercizi di preghiera e anche e soprattutto nella verifica dei tuoi esercizi di preghiera. Ci vediamo alla prossima istruzione o alla prossima meditazione e ti auguro davvero una buona prosecuzione del tuo cammino.